Numero 4. Chicco presenta il biberon micro, perfetto per somministrare piccole quantità di camomilla, latte o tisane. Con una capacità di 60 millilitri, questo biberon è dotato di una tettarella in silicone di dimensioni ridotte e un flusso lento ad un solo foro, ideale per i neonati appena nati. La bottiglia ergonomica in plastica è leggera e maneggevole, mentre la valvola anticolica assicura un pasto tranquillo e confortevole. Un accessorio essenziale e pratico per ogni neonato. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 3. Chicco Natural Feeling è perfetto per facilitare il passaggio dal seno materno al biberon. La sua base larga aiuta a non affaticare il neonato. La bottiglia ergonomica da 330 millilitri, realizzata in plastica, ha un collo ampio ideale per una facile pulizia. La tettarella arrotondata in silicone offre un flusso rapido con tre fori. Equipaggiato con una valvola anticolica, questo biberon è dotato di tutte le tecnologie ideali per ridurre le coliche e rendere l'allattamento più sereno. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 2. Il biberon Chicco Original Touch è perfetto per i più piccoli. Con una capienza di 240 millilitri e un flusso lento, garantisce un'alimentazione serena. La bottiglia in vetro e la tettarella in caucciù offrono un contatto naturale. La forma ergonomica facilita la presa, mentre la valvola anticolica protegge il bambino. Un prodotto naturale e di alta qualità che ogni neomamma apprezzerà. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 1. Questo biberon Chicco Anticoliche è la soluzione ideale per i genitori che cercano un prodotto affidabile ed efficace per l'alimentazione dei loro bambini. Grazie al sistema Intuiflo, che combina la tettarella fisio e la membrana di bilanciamento, questo biberon garantisce un'alimentazione fisiologica e naturale, rispettando il ritmo e l'intensità di aspirazione di ogni bambino. Ma non è tutto, infatti la linea biofunzionale di Chicco va oltre l'effetto anticolico, offrendo un'alimentazione costante e regolare senza interruzioni o inghiottimenti di aria. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Grazie a tutti.